Natale senza 8 milioni di alberi e stelle made in Toscana a lanciare l'allarme col diretti per via della chiusura di garden, ambulanti e negozi al dettaglio di fiori e piante a causa di alcune interpretazioni restrittive dell'ultimo DPCM. Piante, fiori, alberi stanno subendo un ingiustificato blocco nelle vendite che causa un danno importante, scrive in un comunicato col diretti per un settore che ha già subito perdite ingenti durante il precedente lockdown. La Toscana è la capitale nazionale della bete naturale con oltre 3 milioni di esemplari coltivati e concentrati tra il Casentino, la Valtiberina e Pistoia, mentre la Versiglia e la provincia di Massacarrara producono circa 4 milioni di stelle natalizie. Alcune ordinanze locali hanno chiuso gli spazi dedicati a piante e fiori all'interno di molte strutture commerciali. Per questo col diretti ha scritto una lettera indirizzata ai principali gruppi della grande distribuzione organizzata. Il rischio è che venga favorito l'acquisto di piante di plastica che arrivano molto spesso dalla Cina, che quindi consumano petrolio e liberano gas ad effetto serra. Al contrario, gli alberi naturali sono coltivati nei vivai, soprattutto nelle zone montane e collinari, in terreni marginali altrimenti destinati all'abbandono. Da tutelare c'è il futuro di un comparto chiave del Made in Italy agroalimentare con il valore della produzione toscana di fiori e piante stimato in 940 milioni di euro per quasi 3.500 imprese che ora si trovano in gravissime difficoltà.